Adesso però torniamo a parlare della pianura più grande d'Italia e dell'Europa meridionale, ovvero la pianura padana. La pianura padana, come abbiamo detto, ha avuto un'origine alluvionale. La pianura padana ha il suo nome, cioè padano, che deriva dal Po. Ma come, direte voi? Cosa c'entra Po con padana? C'entra perché il Po, gli antichi romani lo chiamavano padus, quindi da padus padano. La pianura padana è letteralmente la pianura del Po. Perché pianura del Po, che lo ripetiamo ancora, si è originata dai detriti trasportati dal Po e da tutti gli suoi affluenti. L'adda, l'olio, il mincio, sono tutti affluenti del Po. Solo per citare il Ticino, vicino a noi, per citare i più importanti. Allora, cosa si fa nella pianura padana? In pianura padana c'è l'agricoltura. L'agricoltura è molto sviluppata e infatti si parla di agricoltura di tipo intensivo. Ma cosa si intende per agricoltura di tipo intensivo? Intensivo deriva ovviamente da intenso, adesso che state iniziando a fare i nomi primitivi e derivati. Intenso significa che vi è un forte sfruttamento del terreno. Come si fa a sfruttare molto un terreno? Lo si sfrutta attraverso fertilizzanti, attraverso macchine agricole moderne, perché si cerca di ottenere il massimo dal territorio. Con tutti i pro e i contro del caso, che però non andiamo a analizzare oggi, però sappiate che l'agricoltura praticata nella pianura padana è di tipo intensivo, così come intensiva è anche l'allevamento. Ma non è sempre stato così, perché fino a circa mille anni fa la pianura padana era caratterizzata da un ambiente molto paludoso, quindi molto umido, pieno di acquitrini, pieno di laghi, stagni, e per poterlo trasformare in una pianura fertile, mille anni fa hanno compiuto delle bonifiche. Hanno fatto delle bonifiche. Cosa sono le bonifiche? Qua avete, pagina 129, il termine bonificato, che è evidenziato e c'è la spiegazione. Bonificato dice prosciugato dalle zone paludose. Infatti bonificare si intende appunto asciugare gli acquitrini. Significa rendere un terreno fangoso, un terreno paludoso, fertile, attraverso appunto la prosciugazione. Molto bene. E che cosa si coltiva in pianura padana? In pianura padana si coltivano riso, soia, la barbabietola da zucchero, che produce il nostro prezioso zucchero di cui purtroppo abusiamo, e il foraggio, che non è il formaggio. Vi ricordate cos'è il foraggio? Faccio vedere subito. L'avrete visto un milione di volte quando andate in autostrada, che guardate verso l'orizzonte, vedrete tutti questi bellissimi cilindri di fieno. Ecco, questo è il foraggio. Tecnicamente il mangime per gli animali, le mucche per i cavalli, eccetera. Bene. C'è solo la pianura padana? No. Abbiamo visto che ci sono altre pianure. Pagina 130, vediamo che sono segnate le principali pianure del centro e del sud Italia. Abbiamo parlato della Maremma, che è qua, di fronte all'isola d'Elba. La Maremma, anche in Maremma c'è un'intensa attività agricola. E qui potete trovare i famosi cinghialozzi toscani, quindi è pieno di cinghiali la Maremma, oltre anche a bufali e cavalli. Zone turistiche anche, perché hanno un mare bellissimo. E ci sono un sacco di oasi protette agroromano e agropontino. In particolare l'agropontino, qua sotto, era anch'esso una pianura che è stata bonificata all'inizio del 1900. E qua possiamo trovare il Parco Nazionale del Circeo, che potete vedere, riprendo il libro, lo potete vedere qua, a pagina 130. Ecco qua. Il Parco Nazionale del Circeo. Dove vedrete bufali, cinghiali, oche e gru. Mentre nelle aziende agricole e l'agropontino si coltivano agrumi, spinaci, kiwi e carciofi. Tutte cose che io adoro. Pianura Campana. Abbiamo detto che è di origine vulcanica. Ecco qua, sono pianure molto più piccole della pianura padana. Dicevamo, pianura padana, origine vulcanica. Si coltivano pomodori, artaggi e agrumi. Tavoliere delle Puglie. Ci spostiamo di qua. Ecco, il tavoliere delle Puglie è particolare perché, nonostante voi vediate qua un'enorme coltivazione, in questo caso, di quelli che mi sembrano cavoli, a vederli da qua, artaggi si dice semplicemente il nostro libro, ma a me sembrano evidentemente cavoli, un tempo, anzi, diciamo così, normalmente il tavoliere delle Puglie sarebbe molto arido e non adatto alla coltivazione. Quindi veniva utilizzato nei secoli scorsi, per molto, molto tempo, è stato utilizzato soltanto come spazi da dedicare alla pastorizia. Ma oggi, grazie ai moderni sistemi per irrigare i campi, esattamente, ci hanno permesso, hanno permesso ai contadini del tavoliere delle Puglie di, appunto, coltivare. E si coltivano viti, ulivi, grano, ortaggi e agrumi. Molto bene. Passiamo alla Piana di Catania. Anche qua ci sono impianti di irrigazione moderni. si coltivano si coltivano ortaggi, viti e soprattutto agrumi, famosi agrumi siciliani, che sono i migliori non d'Italia, ma di tutto il mondo. Sono riconosciuti come gli agrumi più buoni. Infine, questo non l'avevamo ancora citato, ma eccolo qua. In Sardegna abbiamo anche qua una pianura che si chiama Campidano. Anche qua, sfruttato per la coltivazione. Allora, ragazzi, per adesso è tutto. Io ho finito con questa presentazione di geografia. Voi prendete il diario, stoppate il video, prendete il diario. e fate ripartire il video appena avete il diario davanti, perché voi per lunedì prossimo avete da studiare queste pagine che abbiamo fatto insieme, pagina 128, 129, 130, e in più vi chiederei di fare i due imparo con metodo di pagina 128 e 129. Quindi scrivete studiare pagina 128, 129 e 130 più imparo con metodo di pagina 128 e 129. In ogni caso, questi compiti li scriverò sul registro di scuola online. Adesso non mi resta che mandarvi un bacione, un gran saluto e a dirvi ci sentiamo presto e ci vediamo presto. Ciao ragazzi!